per chi non avesse capito cosa ha detto questo essere inferiore ha detto egregi telespettatori vi auguro una buona visione un buon ritorno nelle vostre attività scolastica quindi la scimmia del freddo è già lassù e invece l'entità superiore anche codesto è lassù ma incredibile tutti i mattonieri per andare nella scuola mi devo metterla la cintura e non so metterla ok adesso vediamo una di macchina cosa fa chintersi la cintura no questa parte deve stare qui quindi qui devi passare tutto il resto parti il giro intorno ok cosa sta ascoltando nel suo primo non parte probabilmente potreva ascoltare chiunque la canzone di gerry scotti pasta con tonno perché devi togliere wifi e mette la connessione dica qualcosa prima del suo finale di stagione chi cazzo sei macchina che cazzo è questo in che senso non so chi mi è partito delle cuffie la mia playlist di roblox fa tipo da su prima si è rimasto quindi la scimmia del freddo e aldo biaggio sono già sopra mi sa allora allora timelapse super veloce sto avendo ancora problemi metterci una cinghia scemo scemo no devi far passare questo ma è il contrario così io vado addio no no rimani lì prova metterti la cintura vai vai indietro per modo ciò fai come ti definire cioè quanti ricapiti vedere un mongoloide che ha vent'anni e non so metto una cintura ma che cazzo è giusto non è giusto vecchio no aspetta fermo si che era giusto si che era giusto però vecchio qua c'è una cintura la riesci a mettere no ma che non potevi metterla te ero occupato ma che cazzo stai facendo cosa cazzo 20 anni ancora fai vini penso a te non posso dire niente è un po' si è giusto la mamma non vuole è perché tu vecchia credi devi spostare un po' di là ecco sei felice adesso? sei felice? sei felice? si molto